Non si deve adottare un cane con disabilità per pietismo, ma lo si deve fare con cognizione di causa, lo si deve fare conoscendo gli strumenti necessari ad una vita serena insieme. La diversità quindi non è un limite ma un punto di partenza che ci permette di conoscere approfonditamente noi stesse le relazioni sociali che siamo chiamate di instaurare quotidianamente. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!